La stagione delle trimestrali è andata via via a spegnersi nell'ultimo periodo, nelle ultime giornate, ma c'è stato un nome molto importante che ha rilasciato il report appunto relativo al trimestre passato nella notata di martedì. Si tratta di Crosstrek, che è un titolo importantissimo all'interno dell'industria della cyber security, una delle più brillanti in realtà fino all'inizio di questo 2004, diciamo così, e questa trimestrale potrebbe appunto rappresentare un punto di svolta non soltanto per il titolo che sarà diciamo un po' addormentato ultimamente, ma per l'intera industria. Vedremo che cosa è successo dopo la nostra sigla. Ciao Enrico, ti qui, bentornato. Come ti anticipavo, il tema di oggi è quello nuovamente delle trimestrali, perché c'è stato un nome importante, un'azienda fondamentale all'interno del tema dell'AI, che ha rilasciato il proprio report nella notata di martedì. Quindi in postmarket sono stati rilasciati i dati appunto relativi al trimestre passato. E andando a vedere gli incrementi relativi a utili e vendite, possiamo vedere che si è trattato di un trimestre sicuramente positivo, visto che Crosstrek ha segnato un più 102% per quanto riguarda gli utili, e un più 23% per quanto riguarda le vendite. Abbiamo avuto inoltre una sorpresa positiva per entrambi questi parametri, sia per gli utili appunto che per il fatturato in questo caso in realtà. Dicevo che è un nome molto importante all'interno del rally che abbiamo visto fino a questo momento, e questo è dimostrato anche dall'andamento del grafico, questo è un grafico mensile, vediamo che il titolo a febbraio ha segnato dei nuovi massimi storici. Quindi un periodo sicuramente particolarmente positivo, quello di Crosstrek, che dicevo appunto, oltre a questi due parametri per i quali la sorpresa poi è stata sì presente, ma non così grande come è successo nel caso di altri titoli, dicevo che Crosstrek ha rilasciato anche una guidance invece molto positiva per il 2025. Tutti i dati più importanti relativi a questa guidance sono stati scomposti da Gian Massimo in un post all'interno del gruppo riservato ai trader Raptor, dove appunto abbiamo approfondito in maniera molto più dettagliata, questo è quello che facciamo abitualmente anche durante ATP Future Insights, quelli che sono i dati, i parametri più importanti appunto relativi ai report che vengono rilasciati via via dalle aziende. La sorpresa, dicevo, è stata tutto sommato interessante per quanto riguarda gli utili, abbiamo avuto 95 centesimi di utile per azione rispetto agli 82 pronosticati e anche la crescita appunto poi dei ricavi invece è stata superiore all'estime, 845 contro 839 milioni per il periodo concluso il 31 gennaio. Ma c'è un'altra metrica molto importante, addirittura forse più importante di questi parametri, per quelle aziende, quindi per i titoli di quelle aziende che hanno un business model basato diciamo sugli abbonamenti, ed è appunto il boom del reddito annuale ricorrente, in inglese viene abbreviato con ARR. Questa appunto è una misura che viene seguita con grande attenzione dagli analisti per le aziende che hanno questo tipo di business, ed è probabilmente il boom di questa metrica, abbiamo avuto un più 34% appunto dell'ARR nel quarto trimestre, a 3,44 miliardi rispetto ai 3,39 pronosticati che poi ha causato il rally nel post market tra martedì e mercoledì. Vediamo che è fiammata già dalla prima candela, più 17%, poi il titolo è arrivato addirittura a superare il più 25% e si appresta ovviamente poi ad aprire in gap up la sessione di mercoledì. Buone notizie anche per l'anno fiscale 2025, che inizia con il trimestre poi attuale, finirà in aprile il primo trimestre. Cross Strike ha previsto ricavi pari a 3,957 miliardi superiori rispetto alle stime, non di tantissimo, ma siamo davvero molto vicini ormai alla quota, alla soglia o meglio, soglia anche simbolica, dei 4 miliardi. Grandi sviluppi anche nel campo delle acquisizioni, visto che Cross Strike ha acquistato appunto Flow Security, ha rilevato quest'azienda ancora una volta dedicata alla sicurezza informatica, ha previsto addirittura delle nuove assunzioni, tutto senza attaccare i margini. Addirittura i margini dovrebbero migliorare, questo è un punto molto molto importante, perché stiamo vivendo in una cornice poi macroeconomica di Iger for Longer, dove sarà più semplice, quindi non dico facile, però più semplice per le aziende che hanno appunto liquidità, prosperare. Questi sono i punti che probabilmente hanno poi scatenato la reazione nel post market, visto che in realtà la sessione ordinaria di Marte Edicola regolare era stata tutt'altro che entusiasmante, addirittura il titolo aveva rotto la media a 50 periodi, arrivava poi da tutta questa fase cominciata già tra fine gennaio e inizio febbraio piuttosto anonima. Questa trimestrale, dicevo, potrebbe aiutare poi l'intera industria, magari anche i titoli che invece non se la stanno passando così bene come Palo Alto, che appunto era stato unito per la sua trimestrale, non tanto per utili e vendite, visto che hanno avuto una sorpresa poi positiva, ma soprattutto per la guidance. Addirittura il manager, il CEO di Palo Alto, aveva cominciato a parlare di guerra dei prezzi all'interno dell'industria della cyber security e questo aveva causato poi delle reazioni anche nel caso di Cross-Strike, eravamo sì qua, e anche nel caso di ZS. Ci sono state delle frecciatine poi da parte di Cross-Strike verso queste affermazioni che sono state fatte da parte del manager di Palo Alto, in quanto appunto Cross-Strike ha dichiarato che in realtà non c'è nessun problema con i prezzi e il problema dei prezzi riguarda soltanto determinate aziende, addirittura che anche per i clienti diciamo non c'è un problema di domanda in realtà, ma c'è un problema per quei clienti che si stanno ancora fidando a delle piattaforme che sono una sorta di non mosaico, ma sono un po' così, un insieme di tool diversi messi assieme, che non lavorano in maniera poi perfetta, ottimale, secondo appunto il manager di Cross-Strike, anche in questo caso il riferimento era per Palo Alto, quindi c'è una sorta di guerra, di scontro in atto fra queste aziende, Cross-Strike ha chiaramente la leadership, non c'è nessun dubbio su questo, ma già da tempo, prima di questa trimestrale, è un titolo sicuramente molto più innovativo, anche se vogliamo rispetto a Palo Alto, più giovane, che quindi ha poi maggiori possibilità di far bene anche in futuro. Tuttavia è importante vedere come anche in questo caso poi il tema di mercato, la cyber security che però è collegata al tema dell'intelligenza poi artificiale, soprattutto in ottica di innovazione e di sviluppo, è stata una chiave molto importante per vedere una reazione anche così positiva. Proprio i temi di mercato fra l'altro saranno il focus della prossima Grow Conference, quindi non perde l'altro tempo nel caso non l'avessi ancora fatto per iscriverti alla waitlist, e ovviamente iscriverti anche al nostro canale, la community su Facebook nel caso non l'avessi ancora fatto. Anche nel caso di cross-track, importanti lezioni, abbiamo visto, mai sottovalutare una reazione alle altre trimestrali, anche nel caso un titolo non si stia comportando diciamo in maniera particolarmente positiva, almeno nel breve termine, ecco diciamo così. Questo è il grafico settimanale, vediamo come sia stato un uptrend molto molto forte, già dall'inizio dell'anno scorso, e dicevo poi come nelle ultime giornate, con le ultime settimane in realtà il titolo si fosse un po' fermato, vedremo se questo gap up, ecco sarà un po' l'innesco per un nuovo uptrend, e soprattutto possa anche aiutare l'industria della cyber security, o dei software più in generale, che è stata punita in maniera particolare durante il sell-off di martedì. Quindi in conclusione, cross-track si conferma ancora una volta un titolo molto importante, un vero leader all'interno del rally, ma anche all'interno appunto del tema dell'intelligenza artificiale, declinato alla cyber security, ecco perché è poi presente anche in entrambi i portafogli del IPRE, non è sicuramente un caso. Va bene, allora questo era tutto quello che volevo dirti per quanto riguarda la trimestrale di cross-strike, ricordo che poi effettuiamo analisi molto più approfondite all'interno del percorso Raptor, analisi fondamentali e di business anche in realtà, molto più dettagliate, proprio basate su quella che poi è la visione, diciamo, dell'azienda, quella della nostra visione sul futuro dell'azienda e del titolo stesso. Nel caso questo video fosse stato di tuo piacimento, di tuo gradimento, ti invito a mettere un bel mi piace, ovviamente iscriviti al nostro canale, ti ringrazio ancora una volta per la tua attenzione e ti aspetto al prossimo video. Ciao!